Lo avevamo detto, ora corrono ai ripari, avevano fatto una norma che non aveva i piedi per camminare, da un lato perché mancavano le coperture finanziarie e dall'altro perché avevano proposto, soprattutto a valere sulla sanità, una serie di transazioni come proposta che non erano legittime. Per quanto ci riguarda la battaglia ci ha dato ragione, peccato che a pagare sono ovviamente gli abruzzesi, le famiglie, i cittadini che trovano tanta velocità nella giunta lenta quando si tratta di aumentare lo stipendio dei manager, dei direttori e dei dirigenti e tanta lentezza quando si tratta di occuparsi dei problemi che li riguardano più da vicino e che sono stati purtroppo oggetto dell'impugnativa. Pensiamo soltanto che se la pace legale vale 160-170 milioni di Euro, di cui 110 che sarebbero andati a sottrazione del Fondo Sanitario per ILEA dei cittadini per le prestazioni di cura delle persone, dall'altro ovviamente non coprono le risorse molto inferiori rispetto ai 170 milioni di Euro necessari per far ripartire l'economia. Lo annunciamo di nuovo adesso, guardate che anche sul cura Abruzzo 2 ci sono e ci saranno dei rilievi soprattutto sulla parte finanziaria delle coperture molto significative. Correte subito ai ripari, non fate come sempre la giunta lenta.